oroscopo di sabato 8 agosto ariete consigliatevi con un collega fidato se percepite aria di cambiamenti e studiate bene delle strategie per non farvi trovare impreparati toro tante sollecitazioni esterne in gran parte piacevoli aprono una via di fuga ai problemi o vi consentono di affrontarli con spirito leggero rispettate il vostro bisogno di comunicare e percepire l'appoggio degli altri non chiudetevi in voi stessi gemelli ancora una giornata senza guai perfetta per divertirsi partire sedurre e anche il giorno perfetto per scambiarvi effusioni con l'amato bene e intrecciare magari un flirt malizioso cancro nonostante le buone intenzioni non riuscirete a sentirvi in pace qualcosa dentro vi turba e vi disturba avete un certo ascendente sugli altri senza entrare in contrasto potete influire sul corso delle cose leone va alla grande per voi oggi la vita affettiva bene le conquiste magari con l'aiuto di un look studiato per fare colpo e in previsione proprio un tetto a tetto amoroso fatevi belli un nuovo taglio una nuova tintura un capo di abbigliamento nuovo di zecca vergine unitamente all'impegno e alla determinazione un po di faccia tosta è indispensabile perché gli altri si accorgano di quanto valete l'estate vi riserva eventi importanti quindi preparatevi sfoggiare una forma strepitosa si può ma dovete fare la vostra parte bilancia i tentativi di screditarvi oggi sono destinati al fallimento è vero che un po del merito va dato al vostro fascino ma in guerra tutto è lecito il clima estivo si accompagna spesso per voi a una fase poco energica accettatela e riposate di più scorpione potete vivere situazioni molto piacevoli amicizie viaggi incontri appassionati sperimentate quindi la leggerezza non mettete ipoteche sul futuro sagittario quello che al momento il lavoro non vi dà ve lo regala la vita sentimentale movimentata imprevedibile incontri con persone coinvolgenti non sapete ancora bene se accettare o meno una proposta che vi è stata fatta qualcosa non vi convince e allora meglio aspettare oggi amici del capricorno avrete qualche difficoltà a fare ordine nei pensieri lasciate da parte i progetti ambiziosi e concentratevi su alcune questioni pratiche c'è ancora un po di clima freddo nell'ambito di coppia a causa di certi contrasti con il partner il quale ultimamente fa capricci a tutto andare amici dell'acquario oggi è più facile di quello che sembra troverete un punto d'incontro con la persona amata siete affabili e cortesi con i colleghi discreti e riservati per quanto riguarda il privato le chiacchiere volano amici dei pesci oggi è una giornata di successi personali e di rivincite su situazioni del passato poco gratificanti e quindi guardate avanti un bel apporto di entusiasmo e buon umore ve lo regala il sole potete considerarvi davvero ben protetti l'estate i 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